Buona, due, tre, e buona parte! Perché l'amministrazione non è far vedere, l'amministrazione è fare le cose. Noi le abbiamo fatte in 25 anni, ecco perché abbiamo creato questo centro civico all'Utrino. Perché sappiamo che possiamo parlare con la gente e sappiamo che c'è ancora tanto da fare e quindi non promettiamo ma facciamo le cose, andiamo avanti e continuiamo in questo percorso. Un percorso che da 30 anni veniva soltanto utilizzato per chiedere il consenso. Non c'è uno di Librino che può dire che io in questi 5 anni lo abbia cercato per dire dammi il voto qua, dai il voto a questo amico mio o dallo un altro. Non l'ho mai fatto perché io dovevo fare il sindaco di Catania. Allora se nei quartieri popolari si rendono conto che l'azione amministrativa seria, rigorosa, trasparente deve continuare, ecco perché io sono qua. Ecco perché il centro civico l'abbiamo voluto fare qua. per poter parlare con la Catania che è la più grande parte di Catania che soffre, che ha problemi ma che è sana, che è sana. Il 99% degli abitanti della Catania Assunzi è gente perbene, è gente perbene che non vuole essere presa in giro e vuole continuare in quella crescita che Catania deve avere. Grazie.